Allora, voi siete come vi chiamate? Ah, non credo. Grazie. Siete stati a Barcellona quando è successa questa tragedia, sì? No, a Barcellona no, a Cambrines. Cambrines. Come state là vicino? Come state vivendo in Spagna? Come si sta vivendo questa cosa? Adesso bene, tutto è in suo posto, ma quando è successo questo noi siamo... non un ristorante, ma il ristorante è chiuso e noi siamo rispettando dentro e al tempo noi andiamo a casa. Ah, vi siete salvati per il ristorante è chiuso praticamente, sì. Positano come mai state qui? No, 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 abbiamo stato qui. Ah, ti piace? Una volta, sì, ci piace. Barcellona, Positano, siamo fratelli, fratelli. Ermanos. Ok, buona vacanza allora. Tanti saluti da Positano News. Ciao, grazie. Ciao da Positano. Ciao.